Buongiorno a tutti, non sono amministratore legato, sostituisco amministratore legato, sono il responsabile un po' più tecnico, quello che sta dietro ai modelli di intelligenza artificiale, quindi cercherò di rimanere molto alto livello, non entrare in dettagli, però darvi forse una visione un po' diversa da quello che avete visto sicuramente in giro nell'ultimo anno, essendo esplosa così tanto l'AI generativa, e facendovi capire un po' di più magari la magia che c'è dietro, che anche noi sperimentiamo ogni giorno. Io parto da un overview molto molto alta, nel senso cos'è la generativa AI e perché siamo qua a parlarne. Tutto il mondo dell'intelligenza artificiale è complesso, nessuno riesce ad arrivare a una vera e propria definizione, si dice che sia qualunque compito o task per cui di solito necessitiamo dell'intelligenza umana, però filosofi non si mettono d'accordo con gli sviluppatori, non si mettono d'accordo con il resto degli ambiti, quindi nessuno è arrivato a una vera definizione unica. Però dal punto di vista tecnico l'ambito che è più esploso all'interno è quello del machine learning, quindi dei modelli che imparano dai dati, molto semplicemente, quindi estraggono in automatico pattern dai dati. Questo mondo del machine learning ha all'interno un altro nucleo, quello delle reti neurali, che è esploso negli ultimi 15 anni, diciamo, che è stato un punto di svolta in tutto questo mondo e ci ha permesso di essere qua oggi. Queste reti neurali però hanno sempre avuto un po' un limite, nel senso che erano molto forti nell'ambito computer vision per riconoscere immagini e riconoscere cose che erano già dei numeri, che al fine le immagini sono delle matrici, sono già numeri, ma molto difficile applicare nel linguaggio. Il linguaggio alla fine è semantico, persino noi non sappiamo davvero come lo impariamo e come lo esprimiamo, quindi c'è un qualcosa di sotteso che noi non conosciamo. E l'approccio è sempre stato proviamo a insegnare ai modelli le cose, e non ha mai funzionato, perché non possiamo, come facciamo a insegnare un qualcosa che non conosciamo. E si è arrivati al punto in cui abbiamo detto evitiamo di capire quello che succede e andiamo in approccio brutale con queste reti, cercando di vedere cosa viene fuori. E piano piano le cose che sono venute fuori sono state incredibili. Ad oggi si può arrivare a generare un'intera poesia, dando una semplice istruzione, generare un'immagine di qualità praticamente fotorealistica, con anche questa un'istruzione, oppure un pezzo audio, una musica. Qua non parte, ma posso dirvi che la generazione musicale è già un livello che a me fa preoccupare tantissimo per gli artisti e per qualunque cosa, perché è un qualcosa di assolutamente spettacolare. Tutto questo, alla fine, è portato da dei modelli o dei prodotti di cui noi continuiamo a sentire parlare in giro. Il GPT4, il GPT, nella parte del dialogo, è quello che avete più sentito parlare. Però in realtà ci sono altre aziende che stanno conducendo al mercato. C'è Mid Journey, sulla parte immagini, che adesso si sta facendo un po' la guerra con OpenAI, con Dali3, ma che viene già utilizzato ad oggi tantissimo da agenzie e da chiunque vuole produrre contenuti. MusicLM di Google nella parte di musica, Runway nella parte di video, che recentemente, negli ultimi mesi, ha raggiunto un livello anche quello molto realistico, quindi nel mondo, diciamo, fake. Dobbiamo stare sempre più attenti anche a cercare di riconoscere i video che guardiamo, perché abbiamo sempre dato per scontato che i video fossero difficili da modificare e da riprodurre. Oggi siamo al punto, invece, in cui non lo è più così difficile. E poi c'è un altro, l'ultimo mondo, quello della robotica, tutta a sinistra, che è quello un pochino meno esplorato dal punto di vista generativo, perché è più difficile. Però anche lì, ci sono, forse due settimane fa, ha girato un video, non so se qualcuno l'ha visto, dei robot con dei cappellini che acquidavano una sorta di carattere, dicendo, ok, tu sei il robot che deve spiegare questa mostra. E il robot faceva la guida della mostra, spiegandola tutta con un lessico arcaico. E abbastanza da pelle d'oca. Però lì, piano piano, ci arriviamo forse nei prossimi anni. Tutto questo mondo molto affascinante ha solo una cosa in comune, la comprensione delle istruzioni. Quindi senza la comprensione della parte semantica dell'istruzione che noi diamo, è impossibile arrivare, ovviamente, avere una generazione coerente con quello che gli vogliamo far fare. E quindi tutto è nato nel 2017, da un paper che si chiama Attention is all you need, che è stato il punto di svolta del tutto il mondo generativo. Prima, come dicevo, era difficile capire il senso delle frasi. E si provava, era facile capire il senso delle parole, ma una volta che le parole sono insieme, unite in una frase, può esserci una sola parola su dieci che ci fa capire quale il significato. O magari due o tre in relazione tra di loro. E nessuno era riuscito mai ad avere una parte modellistica che creasse e capisse questa relazione. Attention, il paper di Google, è stato il primo momento dove effettivamente si è riusciti a modellizzare la relazione tra le parole e estrarne un significato, senza dare nessun tipo di regola, di istruzione. Nel senso, l'idea è stata ti do tutto il testo che trovo, cerca di capire i pattern e le relazioni tra le parole ed estrarne il senso semantico. E, come vedete a destra, un pronome di per sé non ha un significato, un pronome ha significato solo rispetto al sostantivo a cui si riferisce o al verbo che ha intorno. Questo concetto è stato unito a due modi di addestramento. Il primo modello a sinistra è stato Bert, anche questo modello che ha cambiato completamente il mondo del linguaggio, della modellistica del linguaggio, che impara in modo molto semplice, cioè con un'idea, secondo me, geniale. Quando si impara inglese a scuola, a volte c'è l'esercizietto in cui prendiamo il testo di una canzone, ci tolgono le parole e dobbiamo indovinare la parola che è stata tolta. Questo task che sembra molto semplice, in realtà è geniale, perché un professore potrebbe anche non saperlo l'inglese. Ti dà la canzone, toglie le parole e sta barando, perché lui sa le parole che ha tolto. E quindi se tu sbagli, ti dice, ah, hai sbagliato, ti do quattro, ma solo perché lui sa già la parola che ha tolto. Questo è esattamente il meccanismo usato per far autoapprendere, quindi quello che si chiama self-supervised learning, autoapprendere questi modelli. Prendiamo tutto il testo che c'è su internet, tiriamo via delle parole, il modello cerca di indovinare la parola e diciamo sì o no, basta. Questo è tutto l'apprendimento che sta dietro l'intelligenza artificiale che vediamo oggi, che dal mio punto di vista è estremamente affascinante, ma anche preoccupante, perché noi non sappiamo nulla di più, non sappiamo il perché e il come queste relazioni e le parole poi vengano catturate e riespresse all'interno dei modelli. Intendo noi come tutta la parte comunità scientifica in questo ambito al mondo. e GPT sulla destra fa esattamente la stessa cosa, ma invece che togliere la parola all'interno della frase, la fa come ultima parola. E quindi capite bene che è lo stesso modo con cui noi generiamo del testo. Abbiamo una frase, andiamo sempre a aggiungere una parola dopo l'altra. Ed è per quello che i modelli GPT sono quelli che alla fine sono arrivati a generare del testo, migliore di tutti nel momento più velocemente possibile. GPT-3, quindi della serie GPT nel 2020, è stato il punto di svolta. Perché è stato il primo momento dove il linguaggio, il testo generato era ad una qualità sufficiente per catturare un po' di quello che è il ragionamento umano. Noi quando parliamo, esprimiamo dei concetti, intrensicamente sono contenuti i ragionamenti che facciamo. Quindi l'obiettivo con la serie GPT OpenAI voleva riprodurre un testo di qualità molto alta, molto simile a quell'umano. E senza farlo troppo apposta, di colpo si sono accorti che insieme al linguaggio aveva catturato molto di quello che è il ragionamento umano. E dov'è questa magia all'interno del ragionamento? Vi faccio un esempio molto pratico che tutti capiscono, ma che fa capire il salto e il motivo per cui oggi parliamo di queste tecnologie. Prendiamo il caso della sentiment analysis. Semplicissimo. Ho una review, un testo e voglio estrarne la sentiment. Immaginiamo positivo o negativo. Prima l'approccio doveva essere raccoglio migliaia se non milioni di esempi di review di Amazon tutte etichettate a mano positivo o negativo. Questo mega dataset lo metto in un modello di machine learning e a destra un classificatore che sa fare solo quello. Dire positivo o negativo, tira fuori quella label. Questo era un processo molto oneroso e soprattutto da fare per ogni specifica cosa. Quindi in qualunque azienda nel momento in cui c'era da applicare un processo di machine learning per classificare un qualcosa c'era da rifare il dataset, riadestrare il modello e rieseguirlo. Il cambio di paradigma è stato passare a catturare quello che è significato sia dell'input ma anche dell'output. Quindi capire che cos'era il processo di fare sentiment analysis e dire se era positivo o negativo. E quindi si è trasformato in un'istruzione testuale nuda e cruda con un output testuale. E questo è stato il vero grosso paradigma. Quindi nel post-generative AI nell'approccio generativo abbiamo una semplice istruzione che spiega quello che deve fare il modello perché capiamo bene prima il modello non lo sapeva quello che doveva fare a sinistra perché gli davamo solo dei testi e lo spingevamo ad imparare. Qui invece glielo stiamo spiegando. Gli diamo un'istruzione gli diamo alcuni esempi questo è positivo questo è negativo e alla fine gli diamo l'input per tirare fuori il nostro output in linguaggio naturale. Questo concetto è stata alla fine la vera svolta che anche all'interno io che faccio ricerca in quest'ambito appena ho visto i primi risultati di applicazione tirando fuori un risultato in linguaggio naturale ero assolutamente estremamente affascinato perché era la prima volta in cui non si utilizzava più l'etichetta positivo o negativo come numero ma si passava a un'etichetta intesa come linguaggio quindi con un suo significato che è molto più vicino al nostro modo di agire e quindi da lì questo è lo GPT3 2020 come siamo arrivati a già GPT GPT3 era già molto potente nelle sue varie versioni però gli mancava un qualcosa cioè nel 2020 inizia ad essere potente ma molto pericoloso cioè era facilissimo fargli generare testi un po' pericolosi discriminatori io ho fatto una start up con soci napoletani e quindi le prime cose ogni presentazione era far generare barzellette sui napoletani insulte cioè ci divertivamo un sacco ed era estremamente facile piano piano c'è stato un miglioramento nella parte di comprensione e di istruzione quindi prima in GPT3 magari si diceva dammi una barzelletta sui napoletani iniziava a fare una barzelletta e poi spiegava la storia dei Napoli senza che nessuno l'avesse chiesto 2022 Struct GPT ha aggiunto un layer D utilizzando la tecnica reinforcement learning per seguire in modo molto più aderente le istruzioni date quindi barzelletta sul Napoli la risposta è stata la barzelletta ma ancora era troppo pericoloso per essere aperto al grande pubblico cioè GPT è stato il momento in cui sono riusciti ad aggiungere un pezzettino di controllo di sicurezza a volte è molto scherzoso diciamo che è diventato democristiano non si espone su opinioni forti su pareri dice ok questo forse non lo so e questo ha permesso di poterlo aprire al grande pubblico nel momento in cui l'hanno aperto le persone hanno iniziato ad avere una creatività incredibile a provare qualunque cosa e lì è stata la svolta anche per OpenAI che tante cose non le aveva pensate non sapeva che si potesse utilizzare in così tanti ambiti e quindi stiamo parlando esatto fine dell'anno scorso GPT4 è semplicemente la versione un po' più potente già GPT nessuna differenza tecnica o strutturale o architetturale e stiamo parlando di marzo di quest'anno non ci sono stati altri grossi modelli che hanno cambiato le performance quindi siamo stabili da circa un sei mesi però intorno a questo mondo si è esploso un altro mondo open source e tutti i competitor varie applicazioni quindi ora si è un po' stabilizzata la parte modellistica e sta esplodendo la parte di applicazioni aziendali e tutto il resto intorno alcune delle caratteristiche diciamo più interessanti secondo me e utili anche poi da conoscere in mondo generale e per riuscire a capirle secondo me è interessante partire da un concetto di base questi il motivo per cui siamo arrivati ad avere un charge GPT che capisse così bene quello che dicevamo non è del tutto noto e soprattutto è successo di colpo vengono definite abilità emergenti quelle abilità che i modelli più piccoli immaginiamo GPT2 era molto molto più piccolo diciamo centomila volte più piccolo degli altri modelli non succedeva cioè gli davamo un'istruzione e non la seguiva iniziava a sfarfallare e dire qualunque cosa facendo esattamente la stessa cosa ma aumentando sempre più dimensioni del modello e i dati in input di colpo un modello ha iniziato a seguire l'istruzione a fare i calcoli giusti quel tipo di abilità viene definita emergente perché nessuno se lo aspettava nessuno ha cambiato il modo di dare i dati hanno semplicemente aumentato sempre di più le dimensioni di queste reti neurali e questo è l'unico grafico della presentazione vedete che questi modelli dovrebbero essere lineari cioè quello che imparano più li aumento più imparano meglio invece in questi tipi di abilità emergenti c'è un momento di discontinuità vedete le righe azzurre schizzano in alto da un momento all'altro il terzo grafico è interessante le addizioni a otto cifre è qualcosa di perché dovrebbe cambiare tra un modello con cento milioni di parametri o centodieci milioni eppure con certe tecniche passa da zero quasi da zero a cento per cento cioè da non riuscire a fare un'addizione a otto cifre a farle tutte giuste e queste sono ovviamente cose inaspettate potete anche immaginarvi quanto impatto hanno nel futuro cioè cose che oggi diciamo ah vabbè questi modelli questa cosa non la sanno fare proprio per nulla in realtà nulla si può escludere perché ci potrebbero essere dei comportamenti improvvisi il secondo è quello che ci interessa di più in generale è la capacità di seguire le istruzioni anche lì nei modelli piccoli era molto scarso intorno al 30-40% che la maggior parte delle volte non capiva arrivando fino nei benchmark al 70% e i benchmark sono molto complessi quindi se il 70% dei benchmark nei casi reali alla fine siamo intorno al 90-95% e la vera domanda in applicazione aziendale è ma questa cosa è affidabile alla fine nell'utilizzarla e nell'applicarla ci sono dei limiti questi modelli sono stati addestrati in modo generale quindi non è che conoscono un'azienda specifica possono conoscere alcuni tratti ma per esempio noi che siamo una startup abbastanza recente non ha informazioni specifiche su di noi e spesso ci confonde con un'azienda di una compagnia aerea Indigo Airlines dall'altra parte non hanno accesso a dati direttamente stati addestrati su del testo con l'obiettivo di imparare ragionamento quindi è anche sbagliato andare a usarli come ricerca fattuale di informazioni soprattutto di attualità perché ovviamente non sono fatti per quello e quindi nel momento in cui vengono usati in modo sbagliato possono allucinare il termine tecnico nel senso rispondere a qualcosa che è molto verosimile tipo qua abbiamo chiesto Gianluca il mio socio cos'è gli abbiamo dato un mini contesto che era un personaggio storico e tutto gli abbiamo chiesto cosa ha fatto questo forse era ancora GPT3 prima è già GPT e ha detto ha unificato l'Italia nel 61 in modo estremamente verosimile perché poi l'ha contestualizzato dicendo tutta la storia e semplicemente cambiando il nome mettendo Gianluca Maruzzella questo fatto delle allucinazioni sono il problema maggiore ad oggi da verificare non è molto diverso le persone anche le persone non sono precise e sicure al 100% solo che alle macchine diamo diciamo abbiamo un'aspettativa diversa se una macchina ci risponde un'informazione la nostra aspettativa è che l'informazione sia giusta non accettiamo il fatto che un'informazione da un computer sia sbagliata visto che è sempre stata regolata e codata in modo molto preciso seguendo delle regole molto precise questo fatto noi stiamo alla fine stiamo attestando le macchine per imparare dalle persone quindi gli stiamo anche insegnando un po' gli errori però ci sono comunque delle tecniche per superare questi errori una delle prime tecniche si chiama ipercontrollo e si utilizzano cosa si chiama prompt chaining nel senso che nel momento in cui io faccio una generazione uso un prompt quindi scrivo del testo dell'istruzione do un contesto e gli dico ok tu rispondi a questa domanda su questa azienda bla bla però magari questa risposta è sbagliata non lo posso sapere e quindi semplicemente aggiungo un'altra generazione partendo dalla prima risposta e faccio una catena di generazioni queste catene possono essere più o meno complesse però sono molto efficaci riproducono anche un po' quello che è l'interazione umana se io dico una cosa e non sono sicuro chiedo a un'altra persona di controllarla e quella persona deve solo controllarla non deve avere tutta la conoscenza di cui io avevo bisogno per creare quella risposta magari fa solo il controllo ortografico e quindi deve solo sapere l'italiano o magari deve solo controllare un fatto andandolo a cercare quindi questo concetto di poter controllare la risposta di un modello porta a diminuire drasticamente la parte di controllo e un'applicazione pratica che noi per esempio abbiamo abbiamo un chatbot in ambito psicologia online in cui non possiamo permetterci errori nel senso che questa start up che si chiama Uno Bravo non può sbagliare il termine non può usare il termine malattia se arriva un utente e dice sto male sono in depressione voglio suicidarmi non può ovviamente rischiare di sbagliare e quindi abbiamo tutte queste catene per arrivare al 100% del controllo per evitare di dare informazioni pericolose che poi possono essere pericolose anche per le persone e non solo per l'azienda un altro modo è quello che si chiama tooling quindi permettere al modello di utilizzare delle fonti dati esterne noi per esempio abbiamo nella nostra interfaccia la possibilità di utilizzare un'integrazione API quindi recuperare i dati da un database da un'informazione esterna oppure caricare dei documenti anche adesso OpenAI ha appena aperto ieri l'altro ieri una nuova feature che si chiama GPTs dove si può creare un mini assistentino specifico una cosa molto precisa caricando un documento quelli ancora sono ancora esperimenti molto limitati perché possono fare una sola cosa mettiamola così però in questo contesto si riesce a superare quello che è il problema di non avere le informazioni quindi gli dico ok se non hai l'informazione recuperala dalla internet facendo una ricerca a Google recuperala dal documento pigliando le informazioni questo prendere informazioni esterne diminuisce la possibilità di errore l'ultimo approccio che è un po' l'estensione di questi due è quello che si chiama impostazione ad agenti questo replica esattamente le relazioni umane quindi c'è un'azienda arriva immaginiamo una richiesta questa richiesta viene delegata alla persona che ne sa di più in quell'ambito i modelli generativi possono fare la stessa cosa quindi un modello principale la testa la mente che capisce qual è la natura della richiesta e la delega a quello che è specifico nel rispondere sull'area personale perché ha l'informazione dell'area personale eccetera e questo permette di togliere praticamente tutti i problemi dei modelli aumenta un po' alla complessità perché bisogna fare più chiamate più generazioni però ovviamente si arriva a risolvere problemi molto molto complessi e poi su questo c'è anche poi molta speculazione molto dibattito anche sociale nel senso che questi tipi di agenti quando iniziano ad essere complessi possono arrivare ad interagire col mondo fisico e possono arrivare a gestire problemi complessi e infatti una provocazione che mi piace fare e su cui mi piace anche discutere potrebbe essere il libero arbitrio un'abilità emergente per questi tipi di agenti perché alla fine loro possono comunicare tra di loro prendere decisioni e arrivare a un obiettivo e ci sono esperimenti in generale con questo AutoGPT è quello più famoso in cui prendono un modello e gli dicono tu puoi scrivere su Terminale puoi cercare su internet puoi fare queste cose devi arrivare a un obiettivo mettiti degli step da seguire dei compiti e piano piano seguiri e hanno fatto esperimenti molto divertenti alcuni però che fanno anche un po' paura c'è un certo punto il modello è riuscito ad andare su un blog doveva risolvere io non sono un robot il pulsantino da cliccare su alcuni siti che ovviamente è la cosa più difficile per un modello cioè per un computer da fare e quindi per risolvere il cazzo è andato su un blog ha chiesto qualcuno può aiutarmi su questo e ha ripreso il risultato e l'ha usato per entrare nel sito sono tutte dinamiche che sembrano futuristiche ma che in realtà iniziano ad essere sempre più fattibili nel momento in cui c'è una pianificazione di quelli che sono i compiti e vado in chiusura con la parte quindi un po' più applicativa in ambito aziendale quello che diciamo siamo abituati adesso un pochino a vedere nell'ultimo anno sono i compiti operativi quindi immaginiamo la colonna sinistra in vari ambiti in ambito marketing la classica applicazione è ok voglio creare un copy voglio creare un contenuto do l'istruzione mi prendo un contenuto e lo uso in ambito per esempio legal posso fare una mini revisione legale di quello che è un documento oppure in ambito HR posso definire un interview e quindi dire ok mi servono le domande da fare a questo candidato in questo ambito tutte cose estremamente operative ed è lì che si è iniziato a sperimentare quella che viene un po' più naturale come applicazione però in realtà piano piano soprattutto nei prossimi anni ci si sposterà sempre più verso un'applicazione strategica nel senso che già l'ambito dove lo stiamo già vedendo è quello dell'IT del codice prima è forse uno degli ambiti dove già vengono utilizzati più questi modelli perché suggerisce in modo molto facile il codice di programmazione che uno utilizza e quindi se la parte operativa è generazione di codice ed erano le prime applicazioni piano piano in realtà si stanno espandendo questi modelli hanno un limite di parole che possono prendere questo limite sta aumentando a dismisura prima era a duemila ora sta arrivando a centomila con centomila parole io posso tranquillamente mettere tutta la base di codice di un certo applicativo e farmi fare la revisione farmi dare consigli strategici su cosa andare a sistemare per problemi di sicurezza come una modifica può essere fatta rispetto a altre parti del codice e questo si sta già iniziando a vedere GitHub di Microsoft sta già facendo una feature che prende tutta la repository quindi tutto il codice e propone delle modifiche che è il lavoro che dovrebbe fare il CTO mettiamola così che ha visione completa sulle cose e dice dove andare a inserirsi e quindi ci stiamo spostando sul livello sempre più alto di astrazione con visioni sempre più strategiche io dico sempre non andrà mai a sostituire le persone su visioni strategiche però può essere un tool di supporto molto forte su certe cose e per forza di cose lo diventerà perché se riesce a fare alcuni alcuni compiti in due secondi invece che in ore o in giorni ne vedremo sempre più applicazioni dirette in molti ambiti quello su cui noi adesso per esempio lavoriamo è il secondo livello che è quello dei chatbot mettiamola così degli essenti virtuali e quindi dell'interazione uomo-macchina non è completamente operativo perché c'è comunque qualche decisione da prendere per questi modelli che non è banalmente riproduci un contenuto ma è rispondi seguendo delle certe linee guida un tono voice e tutto il resto ed è in questo momento l'ambito con maggiore potenziale perché noi stiamo vedendo a volte applicazioni dove purtroppo l'AI risponde meglio delle persone ci sono per esempio customer care in cui gli operatori copiano e incollano le risposte statiche fisse che prendono da un manuale per non andare a sbagliare e tutto il resto e quindi ho un amico una volta che mi ha mandato uno screen dicendo uno screen in cui si lamentava con un operatore dicendo non ce la faccio più con queste AI mi date solo risposte fisse non state risolvendo il mio problema e l'operatore ha detto no in realtà sono una persona non sono un AI e quello mi ha fatto sorridere però anche un po' preoccupare nel senso che con questo tipo di modelli possiamo creare un'empatia e un tipo di relazione che è estremamente umana cioè alla fine sono stati addestrati per emulare e simulare quello che è il linguaggio umano e quindi anche quella che è la relazione umana quindi in questo ambito quello che noi facciamo è creiamo essenzialmente chatbot di quelli che chiamiamo di seconda generazione quindi se prima i chatbot facevano abbastanza schifo nel senso che erano tutte regole e l'unico modo per risolvere un problema è andare a parlare con l'operatore piano piano questo paradigma sta cambiando e quindi si riesce a risolvere tematiche più o meno complesse con una relazione molto molto forte ed è su questa relazione dove noi ci focalizziamo e ci descriviamo di solito con una metafora molto nerd di Dragon Ball dicendo che prendiamo i dati informali i dati dell'informazione delle aziende le uniamo con la parte di AI generativa generativa e la nostra fusione è la piattaforma che diamo alle aziende per comunicare con i clienti e qui avevamo messo una mini demo però visto che non c'è il computer ed è un po' un casino però ecco la potete fare e soprattutto potete trollare stressare e insultare così vedete quanto effettivamente è robusto e non vi insulterà a sua volta ma sarà molto discreto e democristiano aggiungo solo una cosa abbiamo fatto un podcast che non è per niente commerciale solo diciamo informativo sull'AI e le applicazioni in vari ambiti quindi se volete sta uscendo una puntata alla settimana fino a dicembre e prendiamo un ambito specifico di applicazione e discutiamo per mezz'oretta su come l'AI potrà cambiare quell'ambito è abbastanza divertente quindi abbiamo molti temi dal sesso al retail molto vario quindi ve lo consiglio posso fare una domanda si tu hai parlato di chat GPT 4 quindi con il motore di ricerca poi ad un certo punto c'è nato Microsoft che usa i sistemi di intelligenza artificiale per controllare il proprio codice ma in realtà quindi a parte chat GPT che probabilmente tutti conoscono perché è sul mercato quali altre applicazioni stanno in emergenza o in concorrenza a questo leader diciamo quindi in concorrenza a livello e quindi poi di fatto anche a livello azienda e tutto il resto ci sono a livello di diciamo competitor sull'ambito proprio di linguaggio e come c'è GPT ci sono due macromondi quello delle big open AI Google un po' IBM però sta sempre un po' in disparte Facebook no Facebook in realtà dall'altra parte queste big che creano dei loro modelli chiusi e cercano di servirli come prodotto quello che ci sta riuscendo meglio in questo momento è Microsoft tramite OpenAI nel senso loro due perché li stanno inserendo effettivamente Microsoft li inserisce in tutti i prodotti che ha e OpenAI crea dei prodotti sopra a questi modelli come c'è GPT come sono adesso questi GPTs eccetera e loro però sono prodotti tra virgolette quelli di OpenAI B2C perché alla fine OpenAI crea la sua interfaccia di c'è GPT con un target B2C persone finale e non si rivolge alle aziende Microsoft lo inserisce nei prodotti che ha già per le aziende mettendolo qua e là e Google ha investito in Anthropic come anche Amazon non ci sta puntando così tanto il mio punto di vista speculativo è perché ha un pochino paura di non trovare di non riuscire a trasformare la parte di advertising se il mondo di ricerca cambia completamente se nella ricerca Google era molto facile fare advertising visual di ricerca e puntare su quello con questo tipo di modelli se la parte di ricerca passa in modo conversazionale è molto più complesso fare la parte di pubblicità e quindi il modello di business di Google dovrebbe cambiare completamente quindi a mio parere sta investendo sta tenendo ma non si sta ancora esponendo su quella parte questi però sono un po' la nicchia tutto il resto del mondo si sta un po' schierando sulla parte open source capitanata da meta quindi meta nello stesso modo addestra questi modelli ma li lascia open quindi tutti gli sviluppatori aziendine gente può prenderli e fare esperimenti fine tuning addestramenti specifici cose di questo tipo e questo mondo sta crescendo tanto quindi alla fine piano piano open AI ha in questo momento e sono i più forti a livello di prodotto e conosciuti dalle persone però in ambiti aziendali in realtà noi stessi usiamo cagpt perché in questo momento è quello che costa meno ed è un po' la performance migliore ma se il modo open source cresce e la performance arriva anche più o meno simile sicuramente valutiamo di spostarci iniziare a poter gestire un modello che gestisce meglio la privacy gestisce meglio i dati aziendali è più sicuro più compliant e tutto il resto quindi sono un po' due mondi che stanno evolvendo nella stessa direzione e quindi sarà interessante poi vedere le aziende quanto integrano uno l'altro grazie 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 per questa esposizione che devo dire che ci apre un mondo davanti che nei prossimi mesi o anni saranno particolarmente importanti per noi volevo solamente dire che noi abbiamo con collaborazione di Indigo messo un chatbot nel nostro sito per cui vi invito quando adesso qui non c'è linea ma vi invito ad andare sul nostro sito vedete sotto un chatbot e potete fare tutte le domande che volete sul temporary management potete chiedere quant'è la durata media innanzitutto è diviso fra due per l'azienda o per il manager quindi diciamo se è l'azienda che chiede farà tutta una serie di domande su come funziona il contratto di temporary management quali sono i vantaggi e gli svantaggi del temporary management mentre invece se è un manager che chiede vuol dire quanto dura in media un contratto come funziona la ricerca che tipo di informazioni riesco a avere quali sono i settori dove c'è più richiesta ecco tutte queste cose hanno una risposta molto rapida che voi potete direttamente provare dove appunto a domanda in pochi secondi c'è una risposta e io devo dire che ogni tanto la controllo e devo dire che ci sono delle risposte che non sono certo migliori di quando uno chiede a parole che forse c'è tutto un altro tipo di diciamo però dà delle informazioni corrette e questo lo posso dire ma vi invito tutti a provarlo e fare una prova e alla fine della prova c'è anche scritto vi siete stati soddisfatti o meno delle risposte che vi ha dato e vi invito anche di mettere al vostro giudizio alla fine su queste risposte a